Beh, c'ho un onore incredibile di darvi benvenuto da parte della città di Firenze perché mi sento di poter dire che è una cosa bellissima. Quando mi hanno detto che eravate qua io cercavo di capire ma cosa possiamo dare in cambio a tutto il nazionale che è venuto a Firenze? Sì, è bella la città sicuramente, insomma, ma vogliamo dare qualcosa. Poco abbiamo da poter dare, però una cosa mi sento di dover condividere e di darvi come segnale. Presidente, prenda come segnale solo. Noi abbiamo dato, per la città, per chi conosce un po' la storia, abbiamo come Camera di Commercio cambiato quasi tutto e nel cambiare quasi tutto, perché abbiamo un problema, non si sa perché, cosa si serve? Noi ci poniamo sempre una domanda, ma a che servono le Camere di Commercio? E quindi nel cercare di rispondere a questa domanda che ci facciamo tutti i giorni criticamente, abbiamo detto ma una cosa può servire, cerchiamo di levare tutti i nostri palazzi, si sta parlando di immobili, di attività immobiliari, l'unica cosa che posso dare a voi, e trasformiamo le nostre rendita, cioè palazzi su cui si sta a sedere, si lavora, magari ci pigliamo anche gli affitti, in un polo congressuale feristico a livello internazionale. Quindi vendiamo tutto e ridistribuiamo questa ricchezza solo in un motore che deve servire a dare valore per tutto un territorio ampio. Quindi abbiamo deliberato la vendita, abbiamo il bando in questo momento, è in certificazione al Ministero dell'Economia, come sapete la Camera di Commercio è un organo pubblico, quindi siamo nei 30 giorni, e tutti vogliono sapere qual è il valore di questo bando. E non si è mai detto perché lo si dice qui dentro, è un piccolo omaggio che vogliamo fare, perché comunque sono due lotti da 78 milioni e 7 che si componono di due immobili, che vi posso dire uno dei due ha Camera di Commercio alla coda di gente che lo vuole. Però, e questa è la notizia, permettetemi di piccolo omaggio che voglio dare, non lo sapeva nessuno, oggi lo sappiamo in questa stanza. Ricordo che siamo nei 30 giorni del Ministero a ci dare l'approvazione, ma insomma mi auguro che tutto vada col silenzio e assenso. L'altra informazione che penso che noi si debba condividere, e poi vi saluto, perché poi non voglio rubare il vostro ruolo, perché è un saluto e poi vi vengo subito a noia, poi magari so che mi avete invitato alla tavola rotonda con gentilezza, per cui insomma preferisco annoiarvi dopo che ora, è che noi pensiamo che gli immobili, noi siamo quelli del signor sì, non siamo quelli del signor no, noi si pensa tutto un positivo, poi si sbaglierà, ma al limite si è sbagliato sorridendo, e si pensa che gli immobili, se chiaramente venivano visti come oggetto di rendita in un territorio come questo particolarmente, insomma fatte operazioni del genere di rendita non c'è niente. E quindi è uno stimolo che vorremmo dare a tutti, che è l'elemento che ha frenato molto al di là di tutte le crisi dell'ultimo periodo, insomma non me la racconto a voi. E in ultimo un'attenzione, perché solo gli stranieri sono interessati ai nostri immobili? Cioè quella coda di persone che vi dicevo, chiaro sono lotti importanti, però solo gli stranieri ci hanno fatto manifestazioni di interesse. A me disturba un po', cioè voglio dire, a me come ente mi fa piacere a prescindere, però disturba, disturba che l'Italia non reagisca di fronte al fatto che c'è un patrimonio che possa valorizzarsi e comunque genera del valore. Perché? Perché gli italiani sono così preoccupati dall'investire? Perché questa è una preoccupazione, non che non ci sono i soldi, sono preoccupazioni. E quindi, niente, io so che farete i vostri lavori con tutte le considerazioni, vi lascio con questi spunti e non vi annoio ora, vi annoio dopo sul tema della legalità che mi avete chiamato. Grazie e buoni lavori.